Molte persone dicono di volersi innamorare ma di non riuscire a innamorarsi. Questo è un meccanismo difensivo, probabilmente hanno una paura profonda di innamorarsi, per cui mettono in atto dei meccanismi difensivi. Quello più comune è il perfezionismo, perché se per innamorarmi ho bisogno di una persona che sia totalmente conforme all'immagine ideale che mi sono creata, che è un'immagine talmente dettagliata che, insomma, è come trovare un aglio in un pagliaio. E poi, anche se trovassi quella persona, un piccolo difetto, vuoi che non salti fuori, un po' come la principessa sul pisello che, nonostante dormisse su, diciamo, tantissimi materassi comodi, è andata a focalizzarsi su quel piccolo pisello che sta in fondo dell'unico materasso, che forse riuscivi in qualche modo a infastidirla. È ovvio che il perfezionismo ammazza l'amore, lo uccide completamente, ma devi renderti conto che se metti in atto meccanismi di questo genere è perché hai paura di fatto di innamorarti, è paura di fatto di lasciarti andare, perché probabilmente hai sofferto in passato e stai facendo un'equazione strana, magari non consapevole, del tipo Mario Rossi, quello che mi ha fatto soffrire, uguale tutti gli uomini sono uguali, quindi nessuno vale la pena, per cui non è giusto innamorarsi. Ma è un meccanismo che devi capire. È evidente che, per dire, se un bambino piccolo mette le dita dentro la prese, prende la scossa, poi sarà spaventato dalle prese. Ma il fatto è che spesso, diciamo, questa paura fa sì che manco più entra in una casa dove ci sono delle prese. Per cui, se diventi perfezionista, se ti senti perfezionista e se vai a trovare difetti in tutti, o troppo giovane, o troppo vecchio, o troppo ricco, o troppo povero, o troppo alto, o troppo basso, o troppo magro, o troppo grasso, con troppi capelli, senza capelli, che ne so, con troppa cultura, poca cultura, insomma, puoi trovare veramente di tutto, e allora il problema non è tanto che non trovi la persona giusta, è che fai di tutto per non trovare inconsapevolmente la persona giusta. Quindi, prova ad abbattere questo perfezionismo, è lasciare andare e vedrai che non troverai sicuramente l'uomo giusto, ma perlomeno uno adatto a te. Perché, diciamo, che l'uomo perfetto, ideale, come la donna perfetta, una donna ideale, non esiste. E, un conto è, diciamo, prendersi a uno che proprio non va bene, che è l'estremo opposto, e far di tutto per digerire, per farlo andare bene, per evitare il fallimento. Però c'è anche la situazione opposta, in cui si va a ricercare la perfezione, che non è un qualcosa che fa parte del mondo delle forme, del mondo umano, per cui è un qualcosa che non potrai mai trovare. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog www.seduzionevip.com. Ciao!